Grazie, grazie! Grazie! Centinaia e centinaia di persone a parete per il concerto di Rosario Miraggio. L'evento innestato nel fitto calendario di appuntamenti dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda, comprotettrice della cittadina casertana. Un lungo concerto, quello del cantante partenopeo, che ha attraversato la sua carriera ricca di tanti successi. Un pubblico caldo, accorso dalle province di Napoli e Caserta, che ha cantato con l'artista tutte le hit in scaletta. Portiamo Vivo solo di te tour anche nelle piazze. Io sono, come sempre, felicissimo di trovarmi davanti a tanta bella gente. Io vi ringrazio di vero cuore per essere qui stasera. Giusto per raccontarmi, perché io dico sempre, prima di andare avanti, Vivo solo di te è un modo per raccontarmi e per dire a tutti quanti voi, diciamo, quella che è stata la mia carriera, per farmi capire tutto quello che ho vissuto in questi anni. E ai primi anni di vita ho subito capito quale doveva essere il mio destino, cioè quello di fare il cantante, di percorrere la strada della musica. La musica, l'amore e la passione, tre cose che mi hanno caratterizzato, diciamo, in questi anni. Domani la chiusura dei festeggiamenti con l'ottava, a partire dalle ore 19, in diretta su Teleclub Italia, Canale 77. Grazie, grazie! Grazie!